Purtroppo questo è un periodo particolare, ormai da mesi che attraversiamo questa emergenza anche nel nostro comune. Proprio ieri siamo stati impegnati con diverse attività a livello di coronavirus. Abbiamo questo grande focolaio presso la scuola materna, l'asilo, sito in via Largopiana. Abbiamo circa 60 contagiati e purtroppo ci aspettiamo un aumento, anche perché come ben sappiamo ci vogliono dai 5 ai 7 giorni per poter fare il tampone, per avere un quadro definitivo. Quindi noi come amministrazione abbiamo invitato tutti i nostri cittadini alla prudenza. Infatti proprio ieri abbiamo diramato un avviso che è su tutti i social e anche sul giornale dove invitiamo la cittadinanza a evitare contatti. Qualcuno, in questo caso anche la minoranza, ho visto stamattina che mi accusa di aver ricevuto una delegazione presso il comune di Gerace, ma era una delegazione che ci aspettavamo essere con meno numeri. E quindi a quel punto noi abbiamo lo stesso fatto entrare gli alunni, che per noi gli alunni di Gerace hanno sempre la priorità, perché è il futuro di Gerace e quindi gli abbiamo fatto capire il ruolo anche dell'amministrazione presso la propria città.